buonasera a tutti sono luigi un'alacso per il video e bentorni su tranzo da combattolo versione jap ce la posso fare con l'esa di janembe str esa su cui ho sentito diverse cose negli ultimi giorni o meglio nell'ultimo giorno e mezzo perché sono usciti ieri i leak e su cui sono felice in realtà di dire anche la mia perché a mio avviso è molto particolare come scelta di esa e vale la pena un attimo parlarne come al solito il pg è abilità di free full esa partiamo 16.325 hp per 15.642 attacco e 8.735 di difesa per l'esa del nuovo neo god str questo pg viene come in realtà parlando sinceramente giusto che sia paragonato all'esa di janembe int cosa molto giusta in realtà in quanto sono due pg che vanno a trattare due ruoli a mio avviso leggermente diversi ma andiamo con ordine tre chi e 130 per cento gli extreme str trichi e 90 per cento ai super str abbastanza straightforward per quello che sono le nuove leader skill passiva 100 per cento attacco e difesa inizio turno ok abbiamo quindi abbiamo quindi un aumento della statistica iniziale di attacco di difesa janembe int parte col 70 per cento vi ricordo il che non fa male guardia attiva contro tutti gli attacchi identico alla versione int e sì questa analisi a mio avviso va fatta molto di paragone tra i due pg per capire davvero come è stato fatto questo pg abbiamo poi medie chance di evadere gli attacchi avversari allora benché sia scritto medie chance anche nell'int qua è la wiki che ho sotto quindi mi fido tipo oggi è scritto queste medie chance di janembe str sono più alte sono un 30 per cento contro il 25 per cento dell'int quindi difensivamente partiamo subito partiamo subito con un pg che funziona di più janembe bene o male parte con un buon 30 per cento e tenete d'occhio dico parte in quanto mentre janembe int ha questa evasione più il 40 per cento attacchi che gli porta a 138 per cento l'attacco bonus per quattro turni quando la guardia si attiva janembe invece ha sempre il 30 per cento quindi anche giocando primo senza attacchi prima di lui o giocando più che altro secondo avrà sempre l'evasione 30 per cento non ha assolutamente nessun tipo di boost ulteriore il che vuol dire che offensivamente post attacco subito è inferiore all'int offensivamente post attacco subito è inferiore all'int ma difensivamente ragazzi mi avviso è molto meglio in quanto ogni volta che riceve un attacco aumenta del 10 per cento la sua evasione per il turno ragazzi giocato primo vuol dire che di base sto robo avrà tanta eva già una difesa più alta buon 30 per cento aggiuntivo vi ricordo che lui arriva 11.003 di difesa contro gli 11.004 quindi sono praticamente i densi di difesa ma abbiamo un 30 per cento bonus più guarda più evasione ragazzi questo janembe è una versione più difensiva dello janembe a int molto più difensiva e efficace nel difendere si fa meno danni a partire dal momento che riceve almeno un attacco in quanto lo sapete che janembe a int aumenta il suo attacco unicamente per quattro turni dopo che riceve un attacco lui cosa che succede sempre quindi possiamo tranquillamente dire che questo janembe sia più difensivo che offensivo link bbb shocking speed metamorfosi brother be down nightmare film fate first battle categorie delle solite tre movie bosses transformation e mind and body erosion chi è meglio quindi come pg allora qua è un pochino complessa analizzarlo guardando unicamente i pg in sé a mio avviso si equivalgono ove janembe a int magari fa quel po di danno in più janembe str vi dà più certezza di reggere la carrellata magari di sei colpi avversari in quanto siete sicuri che arrivate a un certo punto è più probabile che vada che non ne vada quindi permettendo di tankare davvero molto bene col 3 per cento in più di difesa inoltre unito alla guardia al 30 per cento base di evasione non è da sottovalutare perché davvero potrebbe darvi la vita nelle roat guardando il team colore vince janemba int il super scusate l'extreme str mi avviso non ha bisogno di questo janemba che è una giunta carina ma il team str non ha bisogno di tank tank col debuff guardando le categorie quindi quelle tre categorie che ha più eventualmente il team extreme pensato magari proprio con janemba tech leader io personalmente è probabile che andrei a preferire in una roat che non ho mai fatto questo janemba sopralinta mi dà più sicurezza di tanking la differenza di danno può sembrare alta quel 38 per cento può dire cavolo è molto diversa però calcoliamo alcune cose secondarie prima cosa questo janemba può essere buildato 20 critico janemba int può arrivare massimo a 15 critico quindi già la potete capire che abbiamo un pochi un 10 per cento in più di critico in questo pg rispetto a lui che alla lunga di lanciare le special garantisce una special in più quel 38 per cento parte con un 400 l'attacco in meno rispetto a janemba int rispetto a janemba int rispetto a janemba str quindi alla fin fine sono di attacco base intendo più o meno equivalente con l'ente che guadagna naturalmente successivamente all'attacco subito ma la cosa davvero importante è che voi potete partire subito giocando lui secondo se volete il suo posizione migliore il primo ma potete partire senza problemi mentre janemba int giocarlo giocate obbligatoriamente primo almeno il primo turno sapendo però che c'è un po di rischio perché se non evade si becca quella calda di special fa riceve danno lui più attacchi riceverà subirà sempre meno quindi a mio avviso si equivalgono dovessi dire chi preferisco io in road senza dubbio janemba str nei class la differenza di danno è sì di qualche centinaio di migliaia ma ricordatevi se i pigiiamo damage reduction queste differenze si riducono puramente a poche migliaia di danni di differenza cioè non cambia di un milione è un 38 per cento in meno quindi è un terzo in meno che magari come attacco caricato sullo scooter può sembrare un valore molto alto ma se siete contro gli amici con damage reduction alta questo valore va via via scemando quindi non sono d'accordo con chi pensa che sia un esa buttato perché l'integri è superiore a mio avviso avrà il suo posizione potrà aiutare chi non riesce a fare magari la road transformation boost o la futura road erosion assolutamente d'altro canto sì ci potevamo aspettare qualcosina di più da questo janemba non è buttato non fa cagare però qualcosina in più in modo da demarcare meglio il confine tra due l'int me lo aspettavo c'è da dire però che questo è anche buono perché vuol dire che non è che ci fanno buttare al cesso janemba int come è successo con gogette str ragazzi gogette ci ha fatto buttare al cesso gogette str invece qua se avete entrambi full ability ci può essere ci può essere il dubbio sinceramente su chi giocare in base alla situazione cosa che preferisco da avere un'unità che cento volte meglio di quella precedente che la butta nel cesso ditemi anche voi cosa ne pensate io vi ringrazio di seguito noi ci vediamo nei prossimi giorni intanto con lo showcase di piccon che finalmente posso pubblicare poi finalmente potrò registrare lo showcase di janemba e spero presto anche con l'analisi di bue by abd che sto farmando la il farming è lungo ragazzi è molto lungo ne fanno una copia sia 10 e poi vado di funky che no non fa anche scusate di sleeping kai perché proprio non ne ho lo sbatto di farmarne due copie però pian pianino ci arriviamo anche a loro e poi il 12 tra cinque giorni si va con le robe fighe perché ci sta l'alesa di goku kai e di vegeta saian saga la speriamo in tante belle cosine grazie in seguito e alla prossima e mi raccomando se siete global forse è un po tardi per dirlo non pullati nuovo sullo step up tenetevi quelle stone che potrebbero servirvi per giren che è meglio presso a poco di quasi ogni pg ottenibile in quello step up alla prossima e non è così faccia a trovare un altro momento